ragazzi vediamo se siamo tutti oggi sono le occhi video raga oggi apriremo due pacchetti adrenalinix e siamo subito e non perdiamoci in chiacchiere ecco qui raga primo pacchetto adrenalinix primo pacchetto adrenalinix raga allora mettiamo l'ultima l'ultima raga è oro quindi non mi credo che è una importante allora raga iniziamo allora apriamo tutti e due pacchetti aspetta allora primo pellegri pietro pellegri del genoa raga c'è un oro ramirez del san podore mettiamo l'oro dietro sensi del sassuolo barella del del cagliari ragazzi super draft super draft di avara mamma mia e che troviamo e caracciolo raga apriremo nel prossimo video quest'altro pacchetto non amiamo oggi e niente spero che questo video sia piaciuto noi ci vediamo al prossimo video ciao